Stoia Rossa, Prato Arancione, siamo andati al confine tra le due province per sentire come vivono i cittadini con regole diverse. Un 60 a cena nel circolo, la polizia multa tutti e chiude il locale per 5 giorni. Al convitto Cicognini un progetto sperimentale per contrastare il bullismo tra i più giovani. Nasce al Serraio la nuova palazzina della Polizia Municipale, ospiterà l'URP e gli uffici del Corpo. Ben trovati a questa edizione della sera del nostro Tg. La Toscana resta arancione, ma alcune zone della nostra regione sono state inserite in zona rossa per l'alto numero di contagi o per la presenza delle varianti. Tra queste figura anche tutta la provincia di Pistoia. Siamo andati al confine tra la nostra provincia e quella pistoiese per sentire come è stato il risveglio in zona rossa a Montale, uno dei confini limitrofi, mentre di qua dall'Agna, in territorio montemurlese, le regole sono diverse. Vediamo. Prato, zona arancione, Pistoia, zona rossa. Questa mattina le due province si sono svegliate, divise da colori differenti, ma anche da differenti regole. Qui siamo al confine provinciale, qui siamo in territorio di Montale, quindi Pistoia. Al di là del cartello si va a Montemurlo. Andiamo a sentire quello che hanno capito le persone di queste regole differenti e soprattutto come le hanno accettate. Da stamattina a Montale si è svegliata zona rossa, come la state vivendo questa situazione e per spostarsi serve l'autocertificazione? Male, perché ci si sposta solo per estreme necessità, farmacia, supermercati, stava qui. Voi dove state andando? Noi si stanno andando a prendere il pane e basta. Voi come la state vivendo? Ma senta, come sempre, non è che è cambiato niente. Se tutte le volte si deve uscire per andare anche a fare la spesa agliana o sì, ci vuole l'autocertificazione, cioè bisogna sempre avere delle stampe, si va, poi se si incontra... A parte non abbiamo mai trovato vigili o persone che ci hanno fermato. Poi che le devo dire? E si vive così ora. Ha senso dividere due comuni confinanti con regole diverse? Non sta a me giudicare questa cosa. L'ambito lavorativo si è fermato quasi completamente. Qui non passa più la gente. Lei ha parenti a Pistoia? Ho due nipoti e ho una figliola che abita a Pistoia, una figliola che abita a Fognano, qui a Montale, con due nipoti. Io non ci posso andare, neanche vengono loro. Che si fa? Come si fa? Per vederci? Perciò metti il telefono, come stai, come non stai? E via. La situazione è difficile? E allora è difficilissimo, per dire, non si può muovere. Eppure siamo a due passi, qua a Fognano, per dire, andandoci passando questo fermiciotto, per dire, siamo lì e purtroppo ci siamo sacrificati qui a Montemurlo senza vederci. A Montale, zona rossa, quindi ci si sposta con l'autocertificazione. A Montemurlo invece siamo arancioni, c'è più libertà di movimento. Ma come si lavora? I bar come vanno? Sinceramente si lavora male. Si lavora male, la gente ha paura di entrare, vengono con il pensiero, stanno attenti a quello che toccano. Insomma, la gente ha paura. Sono 64 i nuovi casi di positività emersi a Prato e provincia. Nelle ultime 24 ore nel nostro territorio il bollettino regionale non registra decessi dovuti al Covid. I nuovi casi di positività in Toscana sono invece 1.126. I ricoverati negli ospedali della regione sono 1.053, di cui 166 in terapia intensiva. Purtroppo oggi si registrano 20 nuovi decessi. Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 294.933 vaccinazioni, 9.866 in più rispetto alla giornata di ieri. Erano in 60 a cena all'interno di un circolo incuranti delle restrizioni sanitarie. Quello che ha scoperto giovedì sera la polizia nel corso di un controllo per il rispetto delle norme anticontagio e del coprifuoco. Nel locale, un circolo a condizione cinese, a confine con Campi Bisenzio, c'erano 60 giovani cinesi che stavano consumando cibi e bevande. Sette di questi, privi di documenti, sono stati accompagnati in questura. Nel corso del controllo sono stati trovati 10 grammi di chetamina, alcune pasticche di ecstasy e hashish. Il presidente del circolo è stato sanzionato per non aver rispettato la sospensione dell'attività di ristorazione, mentre tutti i clienti sono stati multati per la violazione del coprifuoco disposta alla chiusura del locale per 5 giorni. In una quinta classe elementare, le sentinelle anti-bullismo sono tre bambini a cui i compagni potranno rivolgersi in caso di soprusi subiti. Il progetto sperimentale dei bulliziotti è partito al convitto Cicognini, sotto il controllo di un docente tutor e di una psicologa. Sentiamo. Un progetto sperimentale anti-bullismo è partito da un paio di settimane in una classe quinta elementare del convitto nazionale Cicognini. Qui, assistiti da una docente tutor e da una psicologa, fino a maggio e tre per volta con una rotazione periodica, i bambini di 10 anni avranno il ruolo di bulliziotto. A loro i compagni di classe potranno rivolgersi per segnalare eventuali casi di bullismo che saranno poi portati all'attenzione degli insegnanti. Purtroppo il fenomeno del bullismo, fatto di piccoli soprusi quotidiani e danni di alunni più fragili, si registra oggigiorno anche nella fase dell'infanzia e della preadolescenza. Il progetto si propone l'obiettivo di responsabilizzare sin da piccoli al rispetto reciproco e di cogliere attraverso gli occhi dei bambini alcuni segnali che potrebbero sfuggire agli adulti. I ragazzini sono supportati e controllati dalla psicologa e dalla docente, quindi non è che vengono lasciati da soli, ma soprattutto per creare un sistema di prevenire quello che poi, sappiamo tutti, le azioni di bullismo, quali conseguenze gravi possono comportare. Pertanto si è pensato di sperimentare questa procedura, per renderla anche più qualcosa di divertente, perché la parte teorica, diciamo che per i bambini, rimane molto molto lontana. Invece con questa strategia l'intento è quello di attivare un percorso di prevenzione più diretta. Aggressioni fisiche e verbali, percosse, sputi, controlli esasperati sul lavoro, minacce di morte e svariate omigliazioni effettuate con ripetitività e vestazione sistematica sono le motivazioni per le quali il Tribunale di Prato ha emesso un'ordinanza di misura cautelare in carcere per un marocchino di 34 anni, residente a Prato, responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna trentenne, avvenuti anche alla presenza della figlia minorenne. I fatti sarebbero andati avanti fino a gennaio. L'uomo si trovava recluso, adesso si trova recluso, presso il carcere di Prato, arrestato dai carabinieri. Situazione simile però rivolta nei confronti degli anziani genitori e quella che hanno ricostruito i carabinieri di Iolo, protagonista a un cinquantenne pratese che dal gennaio 2018 si è reso responsabile di reiterati maltrattamenti nei confronti dei due anziani, quali ingiuri e strattonamenti violenti, percosse, lesioni personali. I fatti avvenivano soprattutto quando l'uomo era ubriaco o quando si trovava nella necessità di approvvigionarsi di droga, pretendendo il denaro dai genitori per acquistarne. Il Tribunale di Prato ha emesso un'ordinanza che impone l'allontanamento da casa del soggetto ed il relativo divieto di avvicinarsi ai genitori. Verrà realizzata al Serraglio la nuova palazzina della Polizia Municipale. Scopriamone di più. Un edificio di 900 metri quadrati con una parete a vetri che guarda la piazza dell'Università e tetto giardino. Sarà così la nuova palazzina della Polizia Municipale che ospiterà l'URP e gli uffici del Corpo. Il progetto rientra nel piano triennale delle opere pubbliche approvato nei giorni scorsi dalla Giunta. La nuova sede dello sportello al cittadino della Polizia Municipale nasce dall'esigenza di un presidio in una zona come quella della stazione del Serraglio che come ogni stazione risulta un luogo di passaggio. Il Comune di Prato, riconoscendo la necessità di riqualificazione sociale e culturale dell'area del Serraglio, partecipò nel 2015 ad un bando ministeriale per la rivitalizzazione delle aree degradate aggiudicandosi con questo progetto ben 2 milioni di euro. Adesso ci siamo. Entro la fine dell'anno dovrà essere approvato il progetto definitivo ed entro sei mesi successivi quello esecutivo e poi la gara. I lavori inizieranno dunque probabilmente entro il prossimo anno. Entrando nel dettaglio, la palazzina verrà realizzata nella piazza dell'Università proprio di fronte alla sede attuale del PIN. La nuova costruzione si svilupperà su una superficie complessiva di circa 900 metri quadrati distribuita su due livelli. Al piano terra ci sarà la parte pubblica degli uffici destinata ad ospitare l'ufficio in relazioni con il pubblico con un'ampia sala d'attesa a vetri che si affaccia sulla piazza. E' sempre al piano terra ma con ingresso separato saranno collocati gli uffici della Polizia Municipale. Anche questi locali saranno dotati di ampie vetrate sulla piazza dell'Università. Gli uffici complessivamente sono stati dimensionati per ospitare 60 addetti in contemporanea. La copertura della palazzina sarà parzialmente realizzata con un tetto giardino che garantirà un microclima adeguato all'interno degli uffici. La restante copertura sarà realizzata con una falda inclinata verso sud in modo tale da consentire l'installazione di pannelli fotovoltaici per contribuire così alla sostenibilità dell'edificio. Conto alla rovescia verso la nuova trasmissione del digitale terrestre. Da settembre cambiano alcune cose. Ecco quello che bisogna sapere. E' iniziato il conto alla rovescia per la TV digitale del futuro. A settembre prossimo inizierà la transizione verso la nuova tecnologia del digitale terrestre. Gradualmente, secondo un calendario fissato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le varie regioni, verrà effettuato il passaggio dei canali in HD, ovvero in alta definizione. Ma cambierà anche il nuovo standard di compressione video. Pertanto gli apparecchi televisivi, oltre a dover essere compatibili con l'HD, dovranno anche essere in grado di ricevere il nuovo standard DVT-B2. Le TV acquistate dopo il 2017 non dovrebbero avere problemi. Per tutti i telespettatori è comunque possibile effettuare un test. La prova, quella più semplice per quanto riguarda l'HD, quindi l'alta definizione, è quella di provare per esempio il canale 501, che a quel punto lì si deve vedere RAI 1. Quindi invece che sull'1, si vede sul 501. Se riusciamo a vedere RAI 1 su questo canale, siamo già a posto per quanto riguarda l'HD. Mentre invece per quanto riguarda l'altra tecnologia, occorre andare sul canale 100 per i canali RAI e 200 per i canali Mediaset e si deve vedere una schermata blu con scritto test. Se così è, il nostro televisore sicuramente è già predisposto per queste due nuove tecnologie. Chi nei prossimi mesi, effettuando questo test, dovesse continuare ad avere problemi di ricezione del segnale, per continuare a vedere le trasmissioni televisive, dovrà acquistare un decoder o eventualmente cambiare TV. In entrambi i casi, se si hanno i requisiti, è possibile accedere al bonus TV. Il passaggio alle nuove tecnologie in Toscana è previsto tra circa un anno. Non bisogna assolutamente precipitarsi, non bisogna creare allarmismi e non bisogna neanche dare troppo peso alle voci che il televisore va cambiato quanto prima. Chiamate sempre il vostro installatore di fiducia. Se non ce l'avete, con fartigenato a delle imprese assolutamente certificate che vi consiglieranno sul da farsi. Nasce Discover Carmignano, una pagina Facebook con foto, video e informazioni per la promozione del territorio di Montalbano. Un territorio da scoprire e da vivere e da amare. Nasce Discover Carmignano, una nuova pagina voluta dall'amministrazione comunale per promuovere il territorio del Montalbano, ricco di opportunità naturalistiche, artistiche ed enogastronomiche. Si tratta di un racconto fatto di immagini, storie e video, pubblicato giorno per giorno sulla pagina Facebook Discover Carmignano. Tra i primi contenuti che stanno arricchendo la pagina, spiccano i video della serie Cammin Facendo, volti proprio a promuovere Carmignano come meta di chi ama un turismo lento e sostenibile. Visto che l'intenzione è ripartire col turismo lento, con un turismo che sia adatto a chi ha voglia di godersi il territorio, proprio di assaporare il territorio, ci siamo resi conto che le nostre bellezze sono da raccontare meglio e da qui Discover Carmignano, una maniera per attirare i turisti che amano la campagna e il buon vivere. I video realizzati dal videomaker pratese Jacopo Pajar sono pilole di un minuto luna che mettono lo spettatore nei panni di chi facendo un cammino nel territorio carmignanese, come suggerisce il titolo, ne scopre le bellezze nascoste. I primi tre video riguardano l'arte e la storia e sono dedicati rispettivamente all'archeologia con gli etruschi, alle testimonianze del Medioevo e all'arte dal Rinascimento ad oggi. Seguiranno uno a settimana video sulle eccellenze enogastronomiche e sulle attività all'aria aperta. E adesso parliamo di sport, motociclismo. Lorenzo Dallaporta ospite ieri sera ad intorno alle 9. Il giovane pilota montemurlese, campione del mondo, moto 3 nel 2019, torna in pista per la sua seconda stagione consecutiva in moto 2 con l'Ital Trans Racing Team. Sentiamo come Dallaporta si è preparato in vista dei test e soprattutto del primo Gran Premio in programma il 28 di marzo in Qatar. Quest'anno sono più consapevole di quello che mi serve dal mio fisico. L'anno scorso ho fatto un pelo di fatica anche da quel punto di vista. Quindi ho fatto quest'anno tantissimo motocross, ho cambiato di molto l'allenamento in palestra con il mio preparatore. E niente, poi ho girato anche un po' con la 1000, che è una moto che usano più o meno tutti ora per girare su piste grandi. Quindi sono curioso di vedere cosa ho tirato fuori nei primi test che arriveranno a breve. Partiamo con i primi di marzo, 2-3 marzo a Portimò in Portogallo e poi dal 19 al 21 i test ufficiali in Qatar, dove poi il 28 ci sarà la prima gara. Cosa ti aspetti da questi test? Proverai la nuova moto? Ma sì, la nuova moto alla fine non cambierà tanto dalla vecchia. Solo partiremo già da una buona base e quindi sono convinto che sarà tutto più facile rispetto all'anno scorso. Portimò è un circuito che mi piace molto, spero di trovare bel tempo perché comunque d'inverno non si sa mai cosa può succedere. Cercheremo di fare più giri possibile per capire un po' sia il mio livello di preparazione che dove siamo con la messa a punto, quello che c'è da migliorare e quello che non c'è da migliorare. Anche il Qatar è un circuito che mi piace molto, anche se l'anno scorso è stata la prima grande botta dove ho faticato tantissimo e dove c'è stata la prima gara che ero molto indietro. Quindi penso che quest'anno dovrò fare un buon reset e ripartire completamente con un'altra mentalità. Ma attualmente sono molto tranquillo e penso che posso fare molto bene. Ancora sport, siamo arrivati al calcio. Domani il Prato torna in campo contro i bolognesi del progresso. Vediamo. C'è il progresso dietro l'angolo, altra trasferta insidiosa, altra partita da vincere. Sì, da ora in poi credo che noi dovremmo pensare a partita da partita, cercare di vincere tutte semplicemente per rimettersi in corsa per i piani alti e poi alla fine tireremo una riga e vedremo dove siamo arrivati. Il Prato cerca il bis. La formazione bianco-azzura sarà impegnata domani con inizio alle ore 14.30 sul campo del progresso. A Casal Maggiore, a pochi chilometri da Bologna, il Prato cercherà di proseguire la propria striscia positiva con l'obiettivo di rimanere attaccato al treno dell'alta classifica. La vittoria con il fanalino Corticella ha consentito alla compagine Laniera di togliersi di dosso le scorie della pesante battuta d'arresto patita a Fiorenzuola e di riprendere il cammino. Intanto il nuovo tecnico Aldo Firicano continua a lavorare per cercare di dare la propria impronta alla squadra. Penso di essere bravo ma non mandrache, nel senso che un po' di tempo mi ci vorrà per cercare di dare quella che è una mia idea, una mia identità, perché comunque prima ce l'avevano con Ciccio e quindi c'erano altre cose, però un po' di tempo ci vuole, ci vuole anche alla luce di queste difficoltà che abbiamo. Per quanto riguarda la formazione da mandare in campo, il tecnico Laniero dovrebbe proporre Nannelli in porta, in difesa Fremura e Masini esterni con Shannamè e Giampà a coppia centrale. A centrocampo Calamai con Spinosa e Minardi, mentre Sanat sarà schierato a ridosso delle due punte, Tavano e Falchini. Il Prato cerca conferme, a Castel Maggiore servono i tre punti per mantenere accesa la fiammella della speranza per rientrare sul vertice della classifica. A progresso mi attendo progressi. Non ci sono altre notizie, il nostro Tg termina qui a seguire il Vangelo della Domenica cura di Don Marco Locati, parroco di Vaiano. A tutti voi una buona serata da Maddalena Ciambellotti e da tutto lo staff di TV Prato. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.